È sempre un piacere vederti. Sei proprio un bel tipo. Dimmi, Patrick, che cosa stai facendo? Sto chiacchierando con un mio grande amico, Fanny. Ciao, Fanny. Ho capito. Senti, Patrick, ti devo chiedere un favore. Di che si tratta? Ho bisogno che tu ti prenda cura di Gary. Sì, lo farò. Sarà al sicuro con me. Oh, hai proprio bisogno di un bel bagno. Oh, quasi mi dimenticavo. Ecco il cibo per le lumache. Dovrei trovare il modo di non fare uscire l'acqua dal secchio. Cosa fai, Gary? No, non devi mangiarlo. Devi solo entrarci. Su, forza, Gary. Non fare il difficile. Vieni da me. Gary, torna qui. Scenditi lì. Come si vola già. Non avevo mai visto da vicino un dispersore della doccia. Yahoo, Gary. È il momento del tuo... Aspetta un attimo, Patrick. Devi riuscire a imbrogliare quella lumaca. Fa vedere a Gary che tu sei più astuto di lui. Ehi, ascolta, amico. Ho qui con me qualcosa di molto carino da mostrarti. Esattamente l'opposto di una fredda, umida, acquosa vasca da bagno. Da un'occhiata. Non ti sembra divertente? Eh? Devi prendere una decisione. Preferisci che usi l'acqua oppure il fuoco. Ok, d'accordo, Gary. Se proprio non vuoi venire a fare il bagno, allora sarà il bagno che verrà da te. Prendi questo. Bravissimo, ragazzo. E adesso ti insapono. Non è stato poi così male, non pensi anche tu? Bene, è arrivato il momento di asciugarsi. Oh, sfortunatamente qui in giro non ci sono degli asciugamani. Quindi dobbiamo usare un altro sistema. Ecco fatto. Adesso starai meglio dopo il bagno. Ok, vediamo. Gary ha mangiato, ha fatto il bagnetto... E' arrivato il momento di guardare la TV. Wow. Che cosa ti è venuto in mente, Gary? Se volevi fare un altro bagnetto, potevi anche venirmelo a dire. Pronto qui a casa Squarepants? Un piccolo controllo. Va tutto bene? Certo, sta bene. Cosa sta succedendo a casa? Ho bisogno di aiuto. Gary, sto arrivando. Oh, sta leggendo a Patrick una storia della buonanotte. Racconti di lumache bellissima. Come racconti di lumache? Io pensavo che si chiamasse Miau, Miau, Miau. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.